Ciao ragazzi bentornati nel mio canale youtube, oggi marchettona per SanDisk che ci fa provare un prodotto fighissimo che vi consiglio caldamente se vi occupate di editing Di cosa sto parlando? Sto parlando ovviamente di Hardisk SanDisk, lo vedete qua che sta lavorando Eccolo qui, è un SSD Plus Solid State Drive della SanDisk, è un piccolissimo, leggerissimo Hardisk che sto testando proprio perché sto facendo degli editing e non voglio utilizzare l'Hardisk del MacBook Pro ma voglio utilizzare l'Hardisk esterno per vedere le velocità che va a realizzare velocissimamente andiamo a dare un'occhiata insieme con un programma tanto facile quanto famoso che è Blackmagic Disk Speed Test e andiamo a vedere le velocità di questo piccolissimo Hardisk Allora, impostazioni, select target drive, selezioniamo il nostro SanDisk SSD andiamo ad aprirlo e gli diamo Start diamo un'occhiata insieme a quello che viene fuori e eccoci qua vedete che la velocità di scrittura è di 437 MB al secondo e la velocità di lettura è di 528 MB per secondo che dire un prodotto che vale veramente la pena di essere testato per darvi un'idea vi faccio vedere un altro prodotto che è un semplice Max Store vediamo se è collegato sì, è collegato anche lui Max Store Open vado a dargli lo speed test e vedete che la velocità di scrittura non supera i 120 MB per secondo e la velocità di lettura addirittura rimane anche lei, sì, intorno ai 113 MB per secondo veramente bassine le due velocità quindi super promosso il nostro SSD della SanDisk guardate quanto è piccolo cioè è una cosa incredibile è leggerissimo cioè è finto è una schedina ovviamente ed è super microscopica mignonne veramente piccolissima non ho un paragone da fare ma se vedete l'altro hard disk ve ne renderete conto è super minuscolo va bene se vi piace questo prodotto qui sotto troverete il link in descrizione per andare ad acquistarlo se vi è piaciuta questa recensione e se pensate che possa essere interessante per qualche vostro amico mi raccomando condividetela sul vostro profilo Facebook su Twitter dove meglio credete vi saluto tutti quanti iscrivetevi al mio canale cliccate mi piace su questo video ci vediamo con il prossimo video ciao a tutti